Musica Perfettamente in linea con chi erano sicuramente le aspettative Siccardi con Macori al sedile destro per la loro seconda stagione, meglio per lui, seconda stagione di gare all'Elba C'era ma non con Macori, penso che sia la prima volta di questa coppia La prima rally che facciamo insieme, mi sta dando una grande mano, mi hanno preso le note in maniera diversa Anche con l'aiuto di Sandro Sottile Speriamo che vada bene Per essere la quinta gara non ho molte aspettative, più che altro cerco di divertirmi Nuova metodologia, diciamo così, vediamo se l'applicazione di questa porta dei frutti Studiamoci sopra Questa arriva, un buon risultato come io ancora Certo, insomma siamo qua per realizzare, anche sperimentare Forza Siccardi Fu Fu Param Sì, è stato un po' di 200 mila euro no 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 E' Eric McCory che lo ha navigato, hanno faticato insieme e insieme a arrivare per la decima posizione. Decima posizione? Così è? Dai dai, ci saranno divertiti e piano piano stiamo facendo sempre meglio, stiamo partendo un po' di corsa, quindi tra i primi posso aspettare buone cose alla prossima gara? Spero di sì, spero di sì. Dai dai, forza, ti estorgo la permessa ma deve essere così. Ciao, grazie. Ciao, grazie.